ben trovati con un nuovo podcast di mountain blog odore ambiente speciale cammini in collaborazione con zamberla oggi con me c'è daniele materazzo camminatore è un po particolare ciao daniele benvenuto raccontaci un po di te e come è arrivata a questa passione per i cammini sono un ragazzo di legnare in provincia di padova e a 15 anni ha avuto un grave incidente stradale causato un po dalla mia testa sulle nuvole o comunque un carattere sì che non pensavo mai succedesse nulla e mi sono scontrate contro un veicolo che proveniva dalla direzione opposta questo mi ha causato una subamputazione del braccio sinistro ma anche un trauma cranico dei danni al fegato dal polmoni alla vizio ho fatto una moleggia interna e quindi vieni da chiedersi cosa è successo a un certo punto quale molla ha fatto scattare la tua passione per il cammino diciamo che a 30 anni mi sono svegliato da lungo sonno perché essendo capitato in un'età adolescenziale è stato difficile reagire all'inizio e questa cosa è durata a fine di 30 anni questa voglia di prima o poi riaproparmi della mia vita un giorno casualmente in tv visto film che si chiamava il cammino verso santiago per chi non lo conoscesse è un famoso film con martin sheen che si chiama the way lo potete trovare su amazon prime in questo periodo ha ispirato un po quelle che sarebbero state le mie gesta future ricordo che quella sera non ho minimamente dormito diciamo mi era entrato dentro di me e ho voluto provare a fare questa esperienza per la prima volta cioè tengo a ricordare che per me il cammino prima era il metodo più noioso e lento per muoversi da un punto a a b ecco infatti allora mi viene da chiederti ma serve veramente qualcosa di estremo per iniziare un'attività outdoor come il cammino tenendo in considerazione un po il mio carattere a me piacciono un po le martellate e come è stato un po l'incidente una martellata ho voluto anche una forza contrario opposta che mi disse un po la carica perché proprio appunto scegliere quell'esperienza che per me era nuova eccetera secondo me mi avrebbe servito proprio per andare fuori da quella comfort zone che per tanti anni abbiamo supportato e tenuto a cura diciamo protetta ecco proprio out of comfort zone raccontaci un attimo del tuo ultimo viaggio che se non erro è stato in islanda c'è l'islanda l'ho scelta dopo aver terminato il progetto dell'anno scorso nelle terre svedesi ho fatto un sleden tre che questo trail diciamo per mezzo in autonomia perché ogni tanto ci sono tre quattro rifugi nell'aria di 450 chilometri è stato un cammino forte il primo che ha dato il via una serie di cammini che adesso continuerò a farlo nel tempo ma che sicuramente sono diversi dai pellegrinaggi o quello che faceva un tempo come santiago la via francesa o appunto l'islanda l'avevo scelta al termine di quel cammino proprio per avere un qualcosa di più rispetto alla laponia svedese qui era un cammino che sicuramente gli eventi atmosferici o comunque il meteo era forte difficile perché venti e pioggia non mancano mai cercavo un qualcosa di intimo e selvaggio rispetto all'anno scorso per cui l'islanda era il terreno perfetto e qui c'era una completa autonomia da dover svolgere infatti ho dovuto portare come una scorta di 15 giorni di cibo sulle spalle la tenda e tutto quanto per cui non è stato facile dover badare a tutto l'attraversamento ecco spiegaci meglio che percorso hai fatto allora niente l'attraversata prevedeva di fare questo attraversamento verticale da Curieri fino a Skogart dove termina appunto il cammino era un cammino di 450 chilometri che prevedeva una totale autonomia quindi appunto 15 giorni di cibo sulle spalle tenda e tutto il reparto campeggio per cucinarmi avere il riparo nella traversata ecco l'idea era partire con l'amico e insomma atleta Simone Salvagni che noi abbiamo intervistato a maggio durante il Trento Film Festival quest'anno niente l'idea era partire assieme per fare questo cammino ma poi non sono coincesi i tempi o comunque la possibilità di farlo assieme per cui abbiamo tenuto fede al progetto di comunque fare questa attraversata ma l'abbiamo fatto in due modi diversi io come da mia prassi un po' in autonomia visto non potevo stare con lui che venisse con me e lui l'ha fatto con la sua compagna e un amico esploratore e abbiamo portato a termine lo stesso progetto quindi abbiamo fatto lo stesso tracciata con un'onigota raccolta fondi però menzionabile è questa associazione che appunto regalo comunque promuove esperienze per persone con disabilità insomma quindi abbiamo tenuto fede la cosa abbiamo provato a farlo in questa maniera qui insomma quando è che siete partiti siamo partiti sì in agosto siamo partiti io ai primi di agosto lui cerca una decina di giorni più tardi quindi appunto il cammino si è svolto in date diverse ecco vedo che sei molto attivo nei progetti sociali vuoi a proposito proprio di progetti vuoi dirci insomma vuoi raccontarci qual è la prossima meta qual è la prossima avventura che stai preparando se ogni anno diciamo con questi progetti porto sempre un progetto sociale diverso diciamo a galla ecco e ogni volta lo cambio diciamo sono partito con la posare la pediatria tutti i temi che comunque mi riguardano e da una parte all'altra mi sono vicini quindi la tematica è sempre diverso ogni anno quest'anno ho scelto emozionabile l'anno scorso erano easy vision che appunto per le disabilità sensoriali e il progetto precedente è sempre per la pediatria su tutti i progetti che cambio ogni anno e cambio anche appunto il luogo dove vado a fare queste cose quindi alzando l'asticella della difficoltà anche geograficamente mi sposto un po in europa il mio obiettivo per i prossimi anni è comunque alzare questa asticella a misurarmi in cose nuove non nego la possibilità anche di cimentarmi in discipline che non ho ancora mai provato c'è questo stimolo a provare qualcosa di nuovo sempre ad esempio l'ultimo fatto in bicicletta a parigi padova per la pediatria di padova a maggio tra maggio giugno e vediamo cosa riserverà il futuro mi piacerebbe portare a termine qualche progetto in campo alpinistico magari qualche vetta all'olio del salato qualcosa però vediamo insomma devo ancora fantasticare un po anche perché sono tornato da circa un mesetto dall'ultimo viaggio in islanda e devo un po ricaricare le pive è certo ma dov'è che possiamo seguirti ci vuoi dare qualche indicazione se io condivido un po le mie esperienze o comunque i progetti attraverso le mie pagine social che sono denominate la pagina world escape tutto attaccato e niente lì appunto ho posto un po di cose contenuti e chi vorrà seguire potrà vedere sia i progetti sociali o comunque quasi in cui mi cemento durante l'anno per allenarmi io ti ringrazio daniele per la tua esperienza di averla condivisa con noi vi ringrazio per questa occasione niente buon cammino a tutti e buon cammino anche da parte mia e vi ricordo che tutti i podcast di mountainblog sono consultabili dal sito mountainblog.it vi aspetto al prossimo podcast di mountainblog odore e ambiente speciali cammini in collaborazione con zanberlan a presto 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 a presto